Noi abbiamo presentato una mozione ufficiale urgente in Consiglio Comunale come Gruppo Lega perché ci sentiamo di non tradire i cittadini che ci hanno votato, in particolar modo a Bellocchi Falcineto che sarà il sito dove vorranno realizzare questo impianto. Quindi con questa mozione urgente impegniamo il Sindaco e la Giunta e vedremo che cosa faranno i consiglieri di maggioranza visto che a parole dicono una cosa e nei fatti ne dicono un'altra. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di bloccare qualsiasi realizzazione di un digestore di 60-80 mila tonnellate di questo si parla a Bellocchi e Falcineto per diversi motivi, non solo tecnici dal punto di vista ingegneristico ma dal punto di vista finanziario perché esporrebbe Aset a un investimento molto pericoloso perché molto è legato agli incentivi che oggi ci sono, domani non si sa se ci saranno. hanno una scadenza e questa scadenza è molto breve quindi Aset potrebbe anche non arrivare in tempo utile per realizzare e mettere in funzione l'impianto. Inoltre il pubblico deve fare il pubblico, il privato deve fare il privato. Questo è un rischio imprenditoriale che è Aset che deve dare servizi, efficienza verso i cittadini quindi fare meno utili perché attualmente sta facendo 6 milioni di euro di utili addirittura prendendo rifiuti speciali non pericolosi da altre regioni ma fare servizi efficienti per i cittadini. Noi abbiamo fatto anche una proposta in questa mozione di indicare un sito già urbanisticamente pronto quindi senza bisogno di variante dove installare questo digestore appaltarlo ad un privato e gli sgravi da questo appalto dovrebbero non gravare ma ricadere su economie per i cittadini e per le aziende della nostra città visto che le bollette comunque a nostro avviso sono alte e si possono tecnicamente ridurre con un'operazione di questo genere. Ieri sera abbiamo avuto un'interessante assemblea a Bellocchi dove il tema era quello del digestore e della località dove avrebbe dovuto essere fatto abbiamo riscontrato un'interessante partecipazione da parte dei cittadini non solo di Bellocchi ma anche di Fano e questo ci ha dato molto coraggio perché uno degli obiettivi principali della Lega è quello di essere presente nel territorio e affrontare con una professionalità e competenza temi che lo richiedono. Quello del digestore è un tema che richiede questa competenza ed infatti noi abbiamo spiegato alle persone presenti tutte le criticità di questo progetto sia da un punto di vista finanziario da un punto di vista tecnico e anche da un punto di vista umano e di relazione dei cittadini con il comune.